Buongiorno amici, buongiorno, buon giovedì 27 giugno, un caldissimo giovedì, ventesima puntata del nostro podcast quotidiano che dal lunedì al venerdì vi tiene compagnia parlando di sport e in particolare di scommesse sportive, come al solito andiamo in questa parte a vedere un po' le prime pagine dei quotidiani sportivi, i risultati più interessanti, vi lasceremo anche una free pick esclusiva per gli amici del podcast sull'Under 21 che oggi riprende con le semifinali, purtroppo non ci sarà l'Italia, nel pomeriggio come ogni giovedì ci sarà la puntata di Motor Pick, dovrebbe esserci anche il Panda con noi e sempre nel pomeriggio uscirà la solita puntata quotidiana di Sport USA News & Tip con me, Guru, andremo a vedere i risultati di ieri e la lavagna di oggi con le prime analisi e le prime idee sul baseball MLB, ma bando alle ciance, parliamo di attualità e andiamo a vedere le prime pagine sulla gazzetta dello sport, dell'Italia è sempre più vicino alla Juventus, l'accordo si basa su 5 anni di contratto a 12 milioni di euro, bonus compreso, una clausola recessoria da 150 milioni a salire al termine di ogni stagione, Raiol ha già avvisato l'Ajax dell'accordo raggiunto, oggi partirà la trattativa tra i club e i lanceri e chiedono almeno 75 milioni che è la cifra che garantiva il Piaget. Si torna a parlare di Fiorentina, Rocco Commisso, Chiesa, Rocco Commisso ha parlato in esclusiva al Corriere dello Sport, ho fiducia di poter tenere Chiesa con noi, di trasformarla in una bandiera e costruire una squadra intorno, anche qui quindi si continua a parlare di un possibile addio di Chiesa a Firenze verso la Juve, chissà come si risolverà questa situazione. Andando all'estero, quotidiano mondo deportivo, in prima pagina apre con la richiesta da parte di Antonio Conte di portare Vidala all'Inter, dopo aver rifiutato l'importante offerta dalla Cina il cileno sarebbe finito anche nel mirino del Milan che però non può contare sull'appeal della Champions League rispetto all'Inter. Altre notizie di mercato, Milan donna Roma verso il Piaget, il suo sostituito sarà Areola, secondo Sky la trattativa sta andando avanti per il ventenne portiere rosso-nero che dovrebbe andare a Parigi, il suo cartellino è valutato 50 milioni, il Piaget vorrebbe inserire una contropartita tecnica, Areola appunto l'estremo difensore francese ex Villareal, 26 anni, la sua valutazione è di 30 milioni di Euro che però non convince la dirigenza rosso-nera a questa ipotesi, intanto Manolas-Napoli, alla Roma vanno 34 milioni, Di Avarai-Giallorossi, secondo Sky sempre addirittura d'arrivo la trattativa tra i due club per i trasferimenti del difensore centrale greco e del centrocampista Guineanu per il quale il club capitolino sborserà 20 milioni. Inter, torniamo a parlare ancora di Inter, si parla di Lukaku, abbiamo visto si parla di Vidal ma è fatta per Lazaro, all'ERTA a Berlino vanno 22 milioni più bonus. I nerazzurri avrebbero raggiunto l'accordo con il club tedesco per il trasferimento del 23enne esterno-destro austriaco. Bisogna solo definire gli ultimi dettagli di una lunghissima trattativa che ormai si prodottarà da quasi tre settimane. Infine, cambiamo sport, sempre mercato, secondo la stampa USA Durant rifiuta l'offerta dei Warriors e si dichiara free agent, l'ala dei Warriors ha rifiutato l'opzione da 31,5 milioni di dollari per la prossima stagione e diventerà un mercato dei free agent di cui ne parleremo anche nelle nostre puntate di sport USA News & Tips nel pomeriggio perché ci sono grandi nomi, Irving per esempio, un altro nome sulla bocca di tutti, Jimmy Butler eccetera. Insomma, anche il mercato NBA una volta finito il draft, conclusosi il draft, potrà partire alla grande, un colpo c'è già stato, abbiamo visto Anthony Davis raggiungere Brown James ai Lakers, Lakers che ora vogliono firmare un altro big. Andiamo avanti, partite giocate, Coppa d'Africa, la Nigeria va agli ottavi di finale, 2-0 alla Guinea, l'Uganda invece è fermata a 1-1 dallo Zimbabwe e rimanda la qualificazione, Egitto 2-0 al Congo, si sblocca Salah, oggi ci sono 3 partite, Madagascar Burundi con il Madagascar a 3-10 di quota, il Burundi favorito a 2-50, il pareggio si gioca a 2-90. Ci sarà poi Senegal-Algeria, in questo caso Senegal favorito a 2, l'Algeria si gioca a 4 e infine Kenya-Tanzania, Kenya a 2-30, Tanzania a 3-20, il pareggio è dato a 3-10. Europei Under-21, tornano in campo anche le nazionali Under-21 per le semifinali di questo europeo italiano, purtroppo gli azzurini come ben sappiamo non ci saranno, la prima semifinale è quella in teoria più scontata, Germania-Romania, la Germania è data a 1-53, una vittoria dei sorprendenti rumeni è data a 5-75, mentre spettacolare Spagna-Francia, in questo caso però le quote favoriscono la Spagna a 1-95, mentre la vittoria francese a 3-80, un pareggio nei 90 minuti è offerto a 3-40, visto che stiamo parlando di europei Under-21, vi diamo la nostra free picking esclusiva per gli amici del podcast, studiata da Data, la sua giocata è Germania-Romania 1, Spagna-Francia 1x, quota 2-05, stake 2, quindi parliamo di un raddoppio abbondante giocando sulle due favorite, la vittoria secca nei 90 minuti della Germania e la doppia chance sugli spagnoli che ricordiamo rimangono anche i favoriti per la vittoria finale, nonostante a differenza dei tedeschi debbano affrontare una semifinale più dura contro la Francia. Andiamo avanti, mondiale femminile, oggi si torna in campo, Norvegia-Inghilterra, le inglesi sono favorite a 2, la Norvegia si gioca a 3-80, il pareggio a 3-40, l'Italia ha passato il turno contro la Cina, adesso se la vedrà contro le campioni europee dell'Olanda, le prime quote danno sfavorite le nostre azzurre, staremo a vedere. A proposito di femminile, inizia oggi anche l'europeo di basket femminile, andiamo a vedere le quote, anche qui è la Spagna che domina, quota anteposta 3 per la vittoria finale, molto vicino alla Francia a 3-50, attenzione al Belgio a 7, segue la Russia a 7-50, proprio Russia-Belgio apriranno le ostilità con una sfida oggi, potrebbero vincere le giocatrici del Belgio, in doppia cifra invece troviamo per la vittoria finale la Serbia a 10, la Turchia a 25, la Svezia a 25 e poi si passa all'Italia a 33, le italiane sono messe leggermente meglio della Lettonia e dell'Ucraina a 35, Repubblica Ceca e Bielorussia a 40, Slovenia a 50, Ungheria a 75 e poi si sale molto alti con Montenegro a 150 e Regno Unito a 250. Bene, per oggi vi abbiamo già dato la free peak, abbiamo parlato un po' dei risultati di ieri e di cosa ci aspetta oggi, io vi do appuntamento oggi pomeriggio, non sappiamo ancora di preciso gli orari, di sicuro uscirà prima Sport USA News & T per parlare dell'analisi dei promossi di Baseball MLB e dopo le 5, prima serata o nel tardo pomeriggio, Motor Peak insieme al Panda perché c'è da parlare sia della Formula 1 che della MotoGP, entrambe in pista nel fine settimana. Io vi saluto, grazie dell'attenzione, vi auguro una buona giornata, se potete andate al fresco, almeno dalle mie parti si muore, buona giornata, buone scommesse, seguiteci anche su Telegram, Redapive, la redazione dei nostri tips sul calcio continuano a sbancare giorno dopo giorno, complimenti, comunque dicevo seguiteci, buona giornata, buone scommesse ma puntate sempre con la testa, ciao!